Votate e fate votare, Amadeus nelle vesti di... Sandy Marton, andiamo ai capelli, vai! Ah raga, lo dobbiamo votare, perché noi come facciamo a non votare una Sandy... Marton. Marton? Non mi veniva il nome. Sono maschio però. Sono maschio. Vai, 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 perché sono femminile. Potete assolutamente votare Sandy Marton, perché Sandy Marton è una colonna portante della musica degli anni Ottanta. Eccolo, eccolo. People from Ibiza, oh people from Ibiza. Quindi vota e fai votare domani col Televoto su Rai 1, Amadeus in Sandy Marton. Tale quale show, vota Amadeus. Se no, so cazzi! Eccolo, 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 eccolo.